L'Urd è molto di più che un puntino sulla cartina geografica, è molto di più che un paesino appollaiato sui Pirenei e attraversato dal fiume che non fa rumore, è molto di più che il luogo dove la Vergine scelse dimostrarsi ad un'ingenua ragazzetta non acculturata, Bernadette. L'Urd è un moto del cuore, è un'onda di sentimenti, è un angolo di paradiso sulla terra, è il luogo dove la rassegnazione cristiana diventa serenità. Al di là di ogni in retorica, l'Urd era nel volto dei pellegrini volontari dell'Unitalsi di Nociara Inferiore di ritorno dal tradizionale pellegrinaggio di Maggio in Francia alla grotta di Massabielle. Noi come Unitalsi facciamo 5 viaggi a Lourdes, noi partecipiamo con la sezione campana come sottosezione di Nociara Inferiore, però la nostra sottosezione partecipa in massa, quasi nella totalità, al viaggio di Maggio, perché Maggio ha un sapore particolare, è il mese di Mariano, il mese della Madonna, il mese di Maria e quindi noi cerchiamo di trovarci ancora più vicino a Maria in quel luogo santo, anche se Maria è stata per tutto, sta anche qua. Ma la gioia della fede non è commisurata, anzi è commisurata, è mista alla gioia dell'assistenza che noi portiamo a questi nostri amici disabili. Tra proghi minuti li vedrai arrivare dopo 24 ore di treno, ma scendono dal treno, dal pullman senza stanchezza, perché sono pieni di una fede che hanno raccolto là e che io gli ho detto in quel luogo, mi sono trovato qua poche ore prima di loro per motivi di lavoro, gli ho detto qua e gli ho detto e gli ho ripetuto l'URD non deve essere i sette giorni che voi state a l'URD, l'URD lo dovete portare nel cuore per 365 giorni, lo dovete portare nelle vostre famiglie, nei vostri posti di lavoro e nelle vostre realtà. Solo così potremmo avverare il vero miracolo di l'URD. La fede ci deve convivere per tutti il giorno, 24 ore su 24.